buongiorno siamo qui con Antonio Riccardi truccatore è un curatore d'immagine e lui ha lavorato con tantissimi attori famosi con Pierre Bosman alla RAI a Mediaset ed è una persona straordinariamente ricca di cuore e di carattere l'abbiamo qui con noi stamattina perché c'è Art Dei Santé ed è una giornata dedicata alla vita alla salute e particolarmente ai bambini autistici lui è con noi perché è padrino dei bambini autistici e questa mattina è un onore averlo con noi anche perché noi avevamo in mente di fargli fare una cosa spettacolare per i bambini e quindi questa cosa è dare un suo contributo al valore e all'immagine di questo paese attraverso il suo lavoro e la sua arte adesso gli diamo una parola e gli chiediamo quello che ha intenzione di fare per questo paese e come mai ha scelto di partecipare a questo evento allora intanto buongiorno come come hai detto mi hai intervistato niente comunque lavoro nel mondo dello spettacolo e poi niente io su questi eventi importanti ci sto molto al cuore perché al di là di di questo evento noi facciamo anche la Lilt lotta contro i tumori ogni anno del Pascal di Napoli noi noi giovani dobbiamo comunque dare un contributo e cercare di realizzare di portare avanti questa ricerca contro il tumore noi purtroppo siamo qui in un paese che ne parlano tanti giornali e dobbiamo cercare noi giovani di divulgare questa cosa. Poi per quanto riguarda la vostra associazione io prettamente sono sempre di parte su questi eventi importanti anzi vi ringrazio pure a voi che date la maggior visibilità a queste cose e poi niente noi stiamo io comunque vivo qui a Giuliano e voglio anche spendere una parola di buono per questo Giuliano, Villa Ricca cioè la gente deve comunque riabbracciarsi e dare comunque un buon insegnamento anche al prossimo perché vedo troppa me ne freghismo e questo non mi piace perché l'educazione anche rispetto nell'ambiente in questa associazione comunque importante dobbiamo dare tutto un contributo e soprattutto darci una mano. Dobbiamo sfatare un attimo i luoghi comuni quelli di dare sempre un'immagine cattiva ai nostri paesi di parlare sempre di spazzatura sempre di munnezza di malaffari dobbiamo parlare di cultura di arte di bontà perché ci sono le persone come te che hanno a cuore la propria città come me come salvatore come tutte le persone per bene che lavorano gratuitamente e danno il loro sapere è un contributo ogni giorno a questa immagine che dobbiamo rinnovare e quindi lavorare tutti insieme abbracciarci e andare avanti quindi quello che tu vuoi augurare a questa città qual è? Allora in primis voglio augurare dare comunque ai bambini cioè l'educazione dei bambini di portarli comunque una crescita di educazione rispetto verso il prossimo perché siamo tutti quando uguali sulla faccia della terra chi è disabile chi comunque ha un effetto di una malattia siamo tutti quando uguali dobbiamo essere tutti fratelli sulla faccia della terra e aiutarci tra di noi e cercare anche di dare un'educazione in più del prossimo questa è per me una cosa importante Noi veramente siamo stati onorati di averti qua con noi e speriamo di rivederti sulle scene dei grandi film Sì infatti io ti voglio invitare per la lotta contro i tumori che ce l'abbiamo a luglio e facciamo questo evento importante che ci saranno molti personaggi e poi ti invito anche a te con la vostra associazione che comunque mi sta molto a cuore questa cosa anche perché dobbiamo sempre divulgare questi eventi importanti e dare alla società un buon contributo Ti ringrazio Riccardo Truccatore è stato qui con noi stamattina a Villa Ricca alla giornata per la salute Art Dei Santé